Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Vedremo a breve le immagini di tre importantissime opere del Garofalo, definito il Raffaello Ferrarese, che oggi sono tornate in città grazie a un progetto nazionale di cui sentiremo nel corso del telegiornale, ma parleremo anche del caro Energia perché Coldiretti ha lanciato un allarme sui rincari che metterebbero in serie difficoltà i produttori agricoli ma anche chi gestisce tutto questo settore. Dobbiamo parlare però anche di coronavirus perché oggi purtroppo si è superata una soglia molto triste, quella degli oltre mille morti da inizio pandemia tra i ferraresi da inizio pandemia appunto e sono esattamente mille e quattro i decessi dal febbraio praticamente del 2020 ad oggi per complicazioni apportate dal coronavirus. Ma questa situazione del coronavirus, oltre che su tanti settori della nostra vita quotidiana, ha impattato anche sulla scuola che ieri ha riaperto i battenti per riaccogliere i ragazzi e gli studenti dopo le festività natalizie ed inizio d'anno. Alcuni banchi sono vuoti ma la ripresa della scuola sta funzionando, ha detto Lia Bazzanini che è dirigente scolastica del liceo Carducci di Ferrara che questa mattina abbiamo intervistato, abbiamo raccolto la sua testimonianza di queste prime ore di ritorno a scuola nel nuovo anno e l'abbiamo appunto sentita sul ritorno degli studenti. Ecco com'è andata. Sono rientrati la maggior parte degli studenti e dei professori. Il dato evidente è che è ripresa la scuola. Le parole sono quelle del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che motiva la scelta del ritorno degli studenti in aula. Il prolungato e diffuso uso di una distanza, aggiunge, provoca problemi alla vita di una comunità. E così, mentre il TAR ha sospeso l'ordinanza con la quale la regione Campania aveva disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia da SARS-CoV-2, anche a Ferrara la didattica in presenza rappresenta una realtà. Una testimonianza ci arriva dal liceo Carducci di Ferrara dove la dirigente scolastica Lia Bazzanini evidenzia un rientro in classe con qualche attenzione in più ma senza particolari difficoltà. Noi siamo a scuola dal 7 in realtà. Nella nostra scuola di Bondino anche il 7 e l'8 sono stati presenti. Qui a Ferrara solo il 7 perché il sabato non siamo a scuola. E sono arrivate nei giorni precedenti numerose segnalazioni da parte delle famiglie che molto responsabilmente ci hanno segnalato gli eventuali casi di positività o anche solo di contatto. Sulla base di quello e delle disposizioni che sono uscite abbiamo seguito le indicazioni. Quindi con un caso positivo in classe la didattica ha proseguito in presenza con l'autosorveglianza e con le mascherine FFP2. In caso di due positivi invece bisogna distinguere fra i vaccinati o i guariti e i non vaccinati. Nel caso di tre positivi le classi sono in DAD per 10 giorni. E quindi la situazione è questa, molto varia. Ci sono quindi alcune classi che sono a casa in DAD ma molte altre classi in presenza. Stiamo cercando quindi di far funzionare la scuola e sta funzionando. I ragazzi che sono a scuola naturalmente sono contenti di poterci essere. Abbiamo comunque comandato a tutti il rispetto delle norme. Quindi la reazione alle finestre aperte, all'esterno facciamo la ricreazione, l'intervallo. Tutto sta procedendo. Dobbiamo segnalare una rottura nell'impianto di riscaldamento dell'Istituto Remo Brindisi a Lido e Stensi. Nel frattempo il riscaldamento è stato ripristinato nella mattinata di ieri nel corpo centrale dell'Istituto mentre il problema è stato circoscritto nell'ala di staccata. Al momento non si ravvisa la necessità di ricorrere a un provvedimento di sospensione delle attività didattiche. È stato detto appunto dal presidente della provincia Gianni Padovani. E come detto in apertura dobbiamo parlare della situazione coronavirus perché sono cinque i decessi nell'ultimo bollettino e purtroppo a Ferrara e in provincia si è superata una triste soglia. Sentiamo. 1.400 sono i ferraresi deceduti in quasi due anni da inizio 2020 al 10 gennaio 2022 a causa delle complicazioni apportate dal coronavirus. Sul territorio estense nello stesso periodo sono decedute anche 52 persone residenti fuori provincia, fuori regione e anche una persona residente in Polonia. A questa triste soglia si è arrivati nell'ultimo bollettino in cui sono cinque i ferraresi deceduti a causa del coronavirus due donne residenti in città di 53 e 74 anni e tre uomini di 100, di Bondeno e di Poggio Renatico di 64, 68 e 82 anni. La pressione ospedaliera in territorio estense continua a essere importante. Al Sant'Anna fortunatamente si registrano però più dimissioni che ricoveri in questa giornata, 149 attualmente i posti occupati a Cona, mentre sono 121 in totale tra il Delta e 100. Ancora 20 le persone in terapia intensiva nel ferrarese. Nel bollettino si registrano 614 nuovi casi su più di 1000 tamponi, 220 nuovi guariti. Intanto ricordiamo che da lunedì se si risulta negativi al tampone rapido si potrà chiudere la quarantena con un test in farmacia, pur con qualche fisiologico intoppo da primo giorno, ammette Federpharma Emilia Romagna, questa nuova fase è partita con grande afflusso da parte dei cittadini. Un carico sulle farmacie, dicono da Federpharma, che è già molto consistente per la normale attività di screening e il flusso dei tamponi seriali di quanti ancora non si sono vaccinati, però il sistema sta reggendo, aggiungono da Federpharma. Nel frattempo l'aggiornamento del bollettino in Emilia Romagna registra un aumento della pressione ospedaliera, 14.000 nuovi casi e più di 3.500 nuovi guariti, 35 i decessi a livello regionale. Capitolo vaccini nel ferrarese, più di 3.700 le dosi somministrate lunedì, che hanno portato a quasi 290.000 le prime dosi somministrate in territorio estense, quasi 272.000 le seconde dosi e circa 148.500 le dosi addizionali somministrate. Cronaca adesso, incidente questa mattina alle ore 9.30 a Lago Santo, dove un uomo di 52 anni è rimasto coinvolto in un incidente in maniera autonoma, gravi le lesioni riportate da 52 anni, è rimasto incastrato nell'auto di servizio dell'azienda per cui lavora, auto uscita di strada probabilmente a causa anche del sottofondo stradale, ghiacciato. L'uomo non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato dai sanitari all'ospedale del Delta per le cure. E oggi l'avrete sentito, è scomparso David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Sentiamo un suo ricordo. È stato il Presidente del Parlamento europeo per due anni e mezzo, deputato in Europa per dieci, ma il suo sguardo mite sorridente, la sua voce, il suo sorriso, noi italiani lo conosciamo almeno dal 1992, quando arrivò in Rai e come inviato di cronaca nel Tg3, seguì per molto tempo gli avvenimenti riguardanti mafia, tangentopoli, le inchieste sulle stragi italiane. Giornalista appassionato, ha fatto una vera gavetta prima di arrivare in Rai e dopo tante prestigiose esperienze giornalistiche, con i programmi di Michele Santoro, con cronaca in diretta su Rai 2, con la cronaca prima di tutto su Rai 1, è entrato nella redazione del Tg1 per diventarne conduttore prima e vice direttore poi. Un professionista equilibrato, un uomo lontano dai tic negativi del giornalismo odierno, difensore della libertà di espressione dei diritti. Infine, un uomo coerente che ha deciso nel passaggio alla politica di portare in tutti i suoi incarichi la sua fede nella battaglia per i diritti, per i valori della democrazia, per la giustizia e per la solidarietà tra i popoli. Con lui, Presidente del Parlamento europeo, abbiamo sentito tutti l'Europa farsi più umana e più vicina a noi cittadine e cittadini, nel linguaggio, nella chiarezza, nella determinazione con cui ci ha apostrofato nei momenti cruciali di questi ultimi due anni, per risortarci prima ad attrazzarci contro la tempesta della pandemia, poi ad avere fiducia nella possibilità della ripresa grazie ad un'Unione Europea che ha abbracciato nel 2020, anche in virtù della sua azione di leader politico e di Presidente del Parlamento, un nuovo senso di unità nel dialogo e nel confronto e di cooperazione. Intelligente l'omaggio in italiano di Ursula von der Leyen, che ha salutato David Sassoli riconoscendo in lui un uomo buono. Per tutti i cittadini David Sassoli resterà un amico un esempio, come dovrebbero esserlo sempre tutti i politici per i politici, un modello difficile da imitare. Per chi fa il mestiere del giornalista, un maestro di lucidità accompagnata sempre al senso del limite, facile da dimenticare in questa professione. E torniamo a parlare di elezioni presidenziali e degli appelli a candidare ed eleggere una donna al Quirinale. Sentiamo. E frutto di una precisa analisi storica e allo stesso tempo vuole essere una provocazione l'articolo che Giorgia Seroghetti, ricercatrice in filosofia all'Università di Milano Bicocca, ha scritto ieri per Il Quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri. Nel titolo, per la verità infelice che dice al Quirinale non serve una donna, serve un nome, l'articolo annuncia il tema affrontato dalla Seroghetti, che sostiene che non basta lanciare appelli per chiedere di eleggere una donna alla Presidenza della Repubblica senza fare nomi di possibili candidate. L'appello generico rischia di essere, aggiunge, un esercizio rettorico e stancamente ripetitivo di quanto accade ormai nei sette anni, nelle elezioni a capo dello Stato, almeno nelle ultime, nel nostro Paese. Tutti o quasi ricorderanno la campagna popolare Emma for President, delle elezioni che nel 1999 portarono al Perinale Carlo Azzeglio Ciampi. Fu quella l'occasione in cui i sondaggi di varie agenzie fecero capire che i cittadini avrebbero di gran lunga preferito, lei, donna della politica da sempre, ad uno qualsiasi degli uomini candidati dai partiti, ma il capo dello Stato non l'elegue dei cittadini. E spesso il nome che esce, dalle urne a Montecitorio a Camere Riunite, è frutto di accordi tra loro lunghi e logoranti. La storia ne racconta la Genesi. Oggi, seppure tutti i democratici di ogni schieramento, riconoscono il gap di genere proprio della nostra politica, tant'è che, come dice la Seroghetti, nomi di donne esperte, capaci, leader, nei loro campi professionali ce ne sono tanti, tranne che in politica, dove i nomi, che oggi si fanno ad esempio come papabili per l'elezione a capo dello Stato, non vanno oltre la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, la ex Ministra della Difesa Roberta Pinotti. A queste si potrebbero aggiungere tranquillamente la Ministra dell'Università Cristina Messa, rettrice fino al 2019 dell'Università Bicocca di Milano, medico specializzato in medicina nucleare, diversi periodi di studio negli Stati Uniti d'Inghilterra, delegata italiana a MIUR del programma Horizon 2020. La stessa Erika Stefani, nuovo Ministero delle Disabilità, avvocato in politica dal 1999, già Ministra per gli Affari regionali e le autonomie, ha fatto parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. Hanno tutte un curriculum di tutto rispetto, una carriera politica o scientifica o professionale di alto livello e poi di donne in Parlamento ce ne sono 339 dati delle ultime elezioni politiche. Nessuna oltre quelle indicate potrebbe essere candidata. I partiti tacciono, ma sanno che nel Paese ci sarebbe un grande consenso su una figura femminile di spicco. Aggiungo un altro nome, Linda Laura Sabadini, direttrice ISTAT, ha guidato il Women 20 nel 2021 e è noto in tutti gli organismi internazionali per avere profondamente rinnovato il sistema delle statistiche sociali in Italia e in Europa, introducendo criteri nuovi su donne, povertà, giovani. Conosce molto bene il Paese e ha un carisma e una competenza, ma anche una notorietà mondiale per i numerosi incarichi assunti nelle istituzioni di studi di statistica. Cambiamo argomento, in Emilia Romagna oltre 12.500 i controlli nelle stazioni a bordo treno da parte della Polizia Ferroviaria, servizi di controllo anche in funzione delle norme anti-covid. Sentiamo. 12.518 persone controllate, due arresti, 45 denunciati e 90 sanzioni amministrative. Questi risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria nelle festività appena trascorse in tutto il territorio dell'Emilia Romagna, servizi di controllo intensificati nelle stazioni e a bordo treno anche in funzione delle norme anti-covid. Operazioni spiegano alla Polfer che si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità. Nel complesso sono stati 701 i servizi di pattuglia nelle stazioni ferroviarie e 55 quelli attuati a bordo di 98 treni. E poi ancora 25 servizi anti-borseggio in abiti civili potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, di solito in aumento nei periodi delle festività, anche per il maggiore afflusso di passeggeri. Infine, gli agenti di Polizia Ferroviaria hanno rintracciato 14 minori non accompagnati che sono stati riportati nelle loro famiglie oppure in comunità. E ora parliamo di uno dei problemi più sentiti di questo periodo tra i vari e quello del caro Energia Coldiretti lancia l'allarme, i rincari dicono da Coldiretti rischiano di strozzare l'agricoltura e anche le aziende perché starebbero veramente, dicono da Coldiretti, volando i costi per le aziende. Sentiamo. Il balzo dei beni energetici si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei costi di produzione non compensati da prezzi di vendita adeguati. E quanto emerge dall'analisi della Coldiretti? Il caro bollette colpisce sia le attività agricole ma anche la trasformazione, la distribuzione e i trasporti. Per le operazioni culturali, spiega Coldiretti, gli agricoltori sono stati costretti ad affrontare rincari dei prezzi fino al 50% per il gasolio necessario per attività che comprendono le stirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione. Inoltre, continua Coldiretti l'impennata del costo del gas utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi con l'urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata, cioè più 143%. Non si sottraggono ai rincari anche i fertilizzanti a base di azoto, fosforo e potassio, che subiscono anch'essi una forte impennata, più 60%. Serve responsabilità da parte dell'intera filiera alimentare, conclude Coldiretti. L'obiettivo è salvare aziende agricole e stalle, aggiungono da Coldiretti. E ora parliamo di una nuova collaborazione tra pubblico e privato per l'ampiamento del patrimonio verde a Ferrara e la nuova collaborazione che sarà sancita tra amministrazione comunale, Acer e Ferrara Tua e con una società privata, grazie alla quale questa convenzione è approvata oggi dalla Giunta Municipale e metterà a dimora una serie di nuove piante in diverse aree verdi, tra cui quella al barco, tra via Plebiscito, via Padova e via Sirena, questa di proprietà di Acer, e quindi un allargamento del polmone verde vicino alla città. E ora torniamo in centro a Ferrara perché è partito il cantiere esterno a Palazzo Municipale, lavori per oltre 2 milioni di euro. Sentiamo. Al via il cantiere esterno per i lavori a Palazzo Municipale a Ferrara, materiali, macchinari e strumenti sono in allestimento anche nel giardino delle duchesse. I lavori previsti sono quantificati in circa 300 mila euro e riguardano il prospetto est del giardino e si aggiungono agli oltre 2 milioni e 100 mila euro per la riqualificazione post-sisma del Palazzo Comunale. Si tratta di fondi legati alla ricostruzione successiva al terremoto del 2012. Continuano gli interventi per riparare i danni ai prodotti dal terremoto. I lavori consentiranno il recupero e la riqualificazione della Casa dei Ferraresi, spiega il sindaco Alan Fabri durante un sopralluogo. Gli operai, prima di allestire il cantiere nel giardino, hanno realizzato opere propedeutiche negli spazi interni di Palazzo Comunale. La nuova prospettiva sull'area, con le pareti di affaccio interno restaurate nei prospetti nord ed est, sarà apprezzabile già da fine 2022, mentre i lavori interni al Palazzo avranno uno sviluppo successivo. La fase clou riguarderà i lavori strutturali nella porzione del palazzo che guarda Piazza Castello. Mattinata importante oggi al Museo archeologico nazionale di Ferrara, dove sono arrivate tre opere realizzate nel corso del Cinquecento da Benvenuto Tisi, detto il Garofalo, definito il Raffaello Ferrarese, molto legato alla Corte degli Este. Opere provenienti da due grandi musei italiani, la Pinacoteca di Brera a Milano e la Galleria Borghese a Roma, operazione che rientra nell'iniziativa del Ministero della Cultura. Cento opere tornano a casa, questo obiettivo dell'iniziativa è promuovere e valorizzare il patrimonio storico e artistico italiano. Un'occasione anche per parlare della futura Sala dei Tesori di Palazzo Costabili, che sarà restaurata in questa occasione. Ma sentiamo dal direttore del museo, perché questa operazione è così importante per la cultura ferrarese. Tante per noi, perché segna la partecipazione del Museo archeologico nazionale al progetto Cento opere tornano a casa, che è un progetto voluto dal Ministero della Cultura, che prevede il rientro nelle sedi di origine di una cospicua mole di opere provenienti da alcuni dei principali musei italiani. Il Museo archeologico di Ferrara partecipa accogliendo delle opere di benvenuto, Tisi del Garofalo, che è autore anche di buona parte dell'apparato decorativo del Palazzo Costabili, che ospita il museo, e che quindi ospiteremo nella nostra Sala del Tesoro, che è affrescata appunto dal Garofalo, per un deposito della durata di dieci anni. Quindi ci offre l'occasione per valorizzare non solo il contenuto importante archeologico del nostro museo, ma anche il contenitore, ovvero il Palazzo Rinascimentale che ci ospita e tutto il suo apparato decorativo. A questo progetto, che è un progetto, come dicevo, di livello nazionale, partecipano come prestatori alcuni dei principali musei italiani. Quindi la Pienecoteca di Brera ha fatto uscire dai propri depositi diverse opere, tra cui una che viene anche al nostro museo, come pure la Galleria Borghese di Roma, istituto altrettanto importante che ci ha concesso altre due opere del Garofalo. Vedrete modificata, trasformata la Sala del Tesoro con un nuovo allestimento che abbiamo già progettato, che è già stato progettato e che realizzeremo a partire dalle prossime settimane entro la prossima primavera. Sicuramente avrete modo di vedere un allestimento completamente nuovo della Sala del Tesoro. Prima di salutarci questa sera su Telestense alle ore 22 torna la trasmissione con le frazioni, il progetto che va a toccare ai vari punti attorno alla città di Ferrara, appuntamento questa sera a Francolino, a Sabbioni, Pescara e Fossa d'Albero alle 22 su Telestense. Poi poco dopo alle 22.10 torna il filo da Rianna e in questa puntata si parlerà di vaccinazione anti-covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni di altri temi legati alla sanità ferrarese. Con questi appuntamenti televisivi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.